ciao amici men wow benvenuti questa è la passeggiata ai tempi del coronavirus bene sono qui in campagna in estrema solitudine a svolgere un po le attività cardiovascolare in concomitanza all'uscita per la spesa bene e dopo due giorni di assoluta clausura presso la mia abitazione oggi finalmente risvegliamo un po il nostro organismo con una sana camminata e volevo solamente ricordarvi che domani intorno alle ore 14 pubblicherò un video che vi indicherà come realizzare in casa con le vostre belle manine delle mascherine tipo quella che sto utilizzando io che è un po lisa attualmente perché ha già tre giorni di utilizzo e come realizzarla al meglio con quel poco di attrezzatura che avete in casa vi basteranno due elastici tipo questi una cioppettatrice e della carta da forno quindi domani un video tutorial che vi indicherà come realizzarla al meglio per proteggervi al massimo da questo infame bastardo e maledetto coronavirus un abbraccio amici di menuao a presto ce la faremo uniti ce la faremo